In compagnia di alcuni complici avrebbe più volte preteso denaro da un gioielliere di trani, minacciando di ucciderlo se si fosse rifiutato di pagare. L'estorsore è un cittadino albanese di 27 anni, da tempo residente in Italia, e con alle spalle numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. I carabinieri della compagnia locale lo hanno arrestato con l'accusa di aver compiuto assieme ad altri soggetti non ancora identificati. Una serie di estorsioni ai danni di un commerciante di Preziosi, proprietario di un negozio nel centro di Trani, peraltro in gravi difficoltà economiche per via della crisi del settore. Gli episodi avrebbero avuto inizio già dal novembre dello scorso anno. Il giovane si presentava dal titolare e minacciandolo di morte o fingendo di avere una pistola nella tasca si faceva consegnare parte dell'incasso di giornata. Somme diventate via via sempre più alte per un totale di circa 4.700 euro, una cifra che sarebbe sicuramente cresciuta se il negoziante non avesse deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Determinante per l'arresto dell'albanese la collaborazione di alcuni agenti di un istituto di vigilanza privato che per diverso tempo hanno tenuto d'occhio i movimenti del 27enne e dei suoi complici. Conclusa le indagini, il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della procura locale. Dovrà rispondere del reato di estorsione aggravata.